Assemblea provinciale dell'Aidoleco, l'associazione che promuove la donazione di organi. Antonio Sartor, già presidente in passato del sudalizio provinciale, ora amministratore regionale. Quali sono le prospettive oggi e quali sono le nuove sfide a cui è chiamata la vostra associazione? L'Aido è vivace più che mai nonostante questo anno di Covid che ovviamente ha rallentato le nostre attività. Abbiamo continuato a lavorare nelle scuole, abbiamo continuato a raccogliere iscritti, più di 220 iscritti anche quest'anno, nonostante non abbiamo potuto incontrare a nessuno. Più 30 sono i gruppi che lavorano nel territorio e 26.000 iscritti. Cosa molto importante invece è stata la quota dei prelievi eseguiti quest'anno nel nostro territorio, nonostante l'ospedale fosse un ospedale Covid. Oltre 13 donatori segnalati, ma 4 di questi si sono opposti al prelievo e quindi la percentuale dell'opposizione al prelievo è molto pesante. Quindi su questo vorremmo intervenire quest'anno con delle idee nuove. Vorremmo intervenire su due fronti. Uno nel potenziare l'attività di informazione ai cittadini presso gli uffici anagrafici del nostro territorio, fornendo materiale informativo. Ma grande proposta che vorremmo lanciare su tutto il territorio provinciale è la stanza per la vita. All'interno dell'ospedale, voi sapete, si va ovviamente in momenti in cui ci siamo molto tristi. E quando c'è il momento in cui ai parenti viene chiesto la disponibilità al prelievo degli organi, ci troviamo in un ambiente triste e impersonale. La nostra idea è quella di arredare, di tappezzare questi locali del centro di neuroreanimazione in un modo molto caldo, molto dolce, dove una persona che sta vivendo un brutto momento possa riflettere, possa essere abbracciata idealmente dalla nostra comunità e portare questo progetto nelle tutte le scuole e chiedere un disegno, chiedere ai ragazzi del nostro territorio di disegnare come vedrebbero loro la stanza della vita nell'ospedale di Lecco. Grazie a tutti.